Bene, bene, un'ottima intervista, grazie a Claudio Conti. No Conti, noi qua vediamo questa piantina con le ferrovie che sono in essere e che potrebbero certamente migliorare, come vedete. Poi ci sono tante ipotesi, insomma se riuscissimo a fare tutto quello che effettivamente è pensato sarebbe veramente una bella cosa. D'altra parte le ferrovie ormai vanno molto di moda, però è chiaro che non è che ci possiamo dipendicare tutte le altre cose. Il movimento territorio a Ragusa, come voi sapete, è un po' come la piccola vedetta lombarda, si mette da lì e guarda tutto quello che accade, poi sono attentissimi, riescono a scovare, e come Gianni Jurato, io lo stesso, la ringhiera arrugginita e te la fa vedere. Ora il territorio, e voi sapete che il presidente del comitato esecutivo è Michele Tasca, che tra l'altro è stato sempre un grande appassionato di sport, tra l'altro in gioventù mi pare che faceva l'arbitro anche, ma è sempre stato uno molto appassionato di sport. Bene, fa vedere in queste foto una situazione di precarietà che effettivamente possiamo rilevare all'Aldocampo, allo stadio di Ragusa. Dice, ma qua è stato scuzzolato perché c'era rischio, quindi abbiamo migliorato invece che ha peggiorato la situazione. Io dico, hanno ragione, però quelli del territorio perché dicono, vabbè, per metterli in sicurezza, però alla fine mi pare che Ragusa sta andando anche bene. Non c'è Gianni che parla di sport e parlerà di un'altra cosa, però Ragusa è a un passo dalla promozione, quindi magari andrà a giocare nella serie superiore e la serie superiore già andrà in giro molto in Italia. Quindi fare che quando uno arriva allo stadio sarebbe una cosa bella tenerlo pulito, tutte le attrezzature in gamba, anche perché ho sempre detto che noi abbiamo una eccezionale cittadella dello sport che però per incuria, per ignavia non riusciamo a qualificare e a omologare perché sarebbe giusto omologarla. Ma queste cose noi non le sappiamo fare perché purtroppo abbiamo altri interessi e su certe cose siamo disattenti. E questa è una cosa, però stiamo lavorando per l'acqua, avete visto cosa ha detto Mario Cutello, abbiamo un problema con l'acqua e il 60% dell'acqua si perde. Io spero che il Comune su questo stia lavorando per risolvere il problema dell'acqua. Una cosa che invece è stata risolta, ma io poi lì non so quanto bene abbiamo fatto, è quello delle strisce blu. Io ho detto che per le strisce blu l'unica cosa che effettivamente ci rende soddisfatti è che la ditta che ha preso il servizio, questa ditta di Catania, vedete quel signore il più alto di tutti senza capelli, mi pare che sia appunto il direttore Mammana, mi ricordo il nome, hanno praticamente assunto tutte le persone che c'erano prima, quindi con un contratto come si deve, la cosa faceva parte anche del capitolato. Quindi questa è sicuramente l'unica cosa positiva. Poi io sulle strisce blu vi devo dire che non sono tanto appassionato perché tra l'altro magari i tempi sono quelli che sono, i negozi non ci sono più, però se voi camminate per la città ci sono strisce blu da tutte le parti, ma le macchine non ci sono, quindi bisogna capire se abbiamo fatto una scelta intelligente o meno. Per quanto riguarda il lavoro purtroppo lì non abbiamo nulla da dire, quindi applaudiamo a questa cosa qui. sulle strisce blu, ripeto, ho qualche perplessità. E anche un'altra cosa interessante è il discorso delle strade. Vi ricordate l'anno scorso e due anni fa abbiamo fatto il giro di Sicilia, l'anno scorso e poi mi pare tre anni fa. Abbiamo fatto il giro di Sicilia, ecco queste sono le immagini, mi pare della prima edizione quando a Ragusa pioveva e ci siamo spaventati tutti di come poteva andare a finire perché effettivamente era veramente pericoloso. Poi passarono proprio davanti qua in via Risorgimento, scendendo per Ibla e mi pare che a vincere fu un americano che è stato eccellente, eccezionale. In quel caso cosa si è fatto? Sì, ecco sono io che parlo, quindi. Si è fatto delle arripizzate, come vedete lo passano gli anni, ma siamo sempre qui. Si sono fatte delle arripizzate. L'anno scorso invece ci hanno dato qualche 500 mila Euro che abbiamo utilizzato per asfaltare viale delle Americhe. Quest'anno non ci tocca niente perché quest'anno i 6 milioni che la regione ha stanziato per le strade del giro di Sicilia andranno ad altre città perché da noi il giro di Sicilia questa volta non passa. È un peccato perché poi alla fine ci era piaciuto, era divertente, una cosa del genere. Questo pare che è l'arrivo di qualche, non so di quando, forse primo anno, non mi ricordo. A questo punto devo dirvi che siamo dispiaciuti perché magari se passavamo da noi aggiustavamo anche questa strada. No, c'è un passaggio a livello, non è cosa nostra. Aggiustavamo anche questa strada. Detto questo, io vi ringrazio, vi lascio con Gianni Papa che ha un ospite in studio e poi noi ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti.